E quante volte, ragazzi, capita di uscire dalla propria astronave per una passeggiata spaziale e ricordarsi solo troppo tardi di aver lasciato le chiavi dentro? Ecco, con questa pry bar di Kaibar avete risolto tutti i problemi. Eh sì, siamo di fronte all'ultimo pezzo che mancava nella collezione di backpacko dei Kaibar USSF. Beh, Kaibar è un marchio a cui teniamo davvero tanto, sono già disponibili diversi prodotti di questo brand e fa dei coltelli sensazionali. Tra gli accessori che ha tirato fuori c'è anche questa pry bar, questa piede di porco, questo breacher tool per farsi spazio, tutto dedicato alle attività spaziali. Beh, ragazzi, come è nata questa cosa della USSF? Esiste una branca delle forze armate statunitensi che si occupa di sicurezza spaziale, la USSF, United States Space Force. E quando è nata la USSF, Kaibar che già in passato ha prodotto i coltelli per l'esercito americano, i suoi coltelli ad esempio hanno accompagnato i soldati americani nella guerra del Vietnam, beh, Kaibar uscì con un set di oggetti tutto ispirato alla Space Force. E quindi c'erano vari coltelli, varie edizioni dei suoi coltelli, dedicate a quella che poteva essere l'attività nello spazio. Tuttavia si trattava di un pesce d'aprile. E il bello è che le persone ci hanno creduto e tutti si aspettavano di vedere i soldati in giro a combattere per battaglie spaziali con queste cose qui. Beh, in realtà non è mai stata la USSF a commissionare la realizzazione di questi oggetti, ma Kaibar fu così veloce che registrò prima di loro il marchio. E quindi eccolo qui, riportato sulla confezione USSF. È una linea di prodotti simpaticissima, ma ha tutti gli effetti funzionale. Non lasciatevi ingannare da questa storia, non lasciatevi ingannare dall'ironia, qui abbiamo una pry bar a tutti gli effetti. Una ottima pry bar. 33 cm di lunghezza per uno spessore di 6,3 mm. La manicatura finale, questa parte, è fatta in plastisol per immersione. Quindi un aspetto molto positivo è che c'è un minimo ingombro, ma ci permette di leverare, di fare leva come ci va, come ci piace. È una pry bar funzionante, fatta negli Stati Uniti. Ok, il trattamento superficiale è grigio, la manicatura blu la fanno sembrare un oggetto da collezione, quale potrebbe sicuramente essere. Ma è perfetta nello zaino di un prepper, nello zaino di qualcuno che ha a cuore riuscire a uscire o entrare in determinate situazioni. Gli strumenti a bordo, è il caso di dirlo, sono una leva chiodi, un tagliente su questo lato, in realtà non taglia, ma sarebbe perfettamente in grado di spaccare, una gira dadi, la vedete a disposizione qui per diverse misure. Beh, io sono sicuro che nessun portello spaziale potrebbe mai resistere al fascino del K-Bar Bridge Breacher. Lo spacca portelli, ragazzi! Questo per il soldato del futuro che si troverà in giro a sfasciare le astronavi nemiche. Acciaio 1095, come per la maggior parte dei prodotti K-Bar, di cui trovate su Backpack, o dicevamo, anche altri componenti della linea Space Force, come il chiudibile. Beh, divertitevi a sceglierli perché sono degli oggettini davvero ben fatti, ma con un look insolito per K-Bar. E siccome ve lo dicevo all'inizio che K-Bar è un marchio che ci piace tanto, beh, sono a chiedere il vostro consiglio. A voi quali K-Bar vi piacerebbe vedere nel catalogo di Backpack? Fatemelo sapere, scrivetemelo nei commenti, non vedo l'ora di leggerli.